L'Italia cresce in modo disuguale e al sud c'è una maggiore concentrazione di lavoro povero e precario che frena i consumi, che a fronte dell'inflazione, che ha eroso redditi da lavoro e pensioni, spinge sempre più persone nella fascia di povertà relativa. E' quanto emerge dalle anticipazioni del rapporto SWIMETS 2023. Il documento evidenzia la mancanza di politiche industriali che favoriscono nel mezzogiorno investimenti nelle filiere produttive strategiche e a elevato contenuto di innovazione, in grado di contrastare anche la fuga di competenze e la desertificazione demografica. A mettere in evidenza questi dati è anche la segretaria generale di CGL Puglia, Gigi Abucci. Bucci evidenzia che il rapporto dell'Agenzia Nazionale per il Lavoro ci dice che a fronte di 1.128.000 attivazioni di rapporti di lavoro in Puglia registrati lo scorso anno, solo 79.000 erano a tempo indeterminato, 920.000 a tempo determinato, il resto in forme atipiche. Quanto all'intermittenza occupazionale sostiene le cessazioni di rapporti di lavoro sempre nel 2022 sono state 1.100.000 e se si guarda nel dettaglio 386.000 rapporti di lavoro hanno avuto durata inferiore ai 30 giorni, 275.000 tra 31 e 90 giorni, 191.000 tra 91 e 180 giorni. Bucci spiega inoltre che al sud crescono soprattutto turismo e costruzioni, mentre industria, ricerca e sviluppo sono indietro. Il settore con maggiore numero di rapporti e l'agricoltura con oltre 400.000 attivazioni lo scorso anno. Serve investire bene e velocemente le risorse del PNRR, conclude Bucci, e dei fondi comunitari, indirizzando scelte strategiche che dovrebbero competere alla politica, alle istituzioni e non lasciando mano libera ai privati, ai grandi gruppi e anche a quelli a partecipazione statale.